Solo due giorni per ufficializzare le liste dei candidati. Scelti gli uomini e le donne da presentare alla corsa sindaco, Guerino Testa fa un resoconto della propria squadra. Le nostre liste sono formate seguendo alcuni parametri. Il parametro della diffusione territoriale, quindi di candidati che provengono da tutte le parti della città per coprire interamente l'area cittadina e poi anche dai vari mondi del nostro territorio, quindi dal giovane all'imprenditore, al professionista, a colui che ha avuto già un'esperienza in Consiglio Comunale. Un resoconto anche degli incontri avuti con i cittadini, voci sentite, proposte, critiche, mosse sul territorio che attende il suo prossimo primo cittadino. C'è un malesse diffuso da parte dei cittadini, i cittadini vogliono parlare, vogliono confrontarsi per scegliere poi il loro candidato. Noi stiamo costituendo le nostre liste, stiamo costituendo il nostro programma per essere attrattivi e per dare garanzie di vittoria e di governabilità, che è poi la cosa più importante.